A Villa Ricca, cittadina a nord di Napoli, comanda la Camorra. Bar, ristoranti, imprese delle edilizie, stazioni di servizio, tutto passa dalle mani delle famiglie Ferrara Cacciapuoti, affiliati al cartello denominato Nuova Famiglia. Un controllo del territorio quasi totale, al punto da spostare al di fuori del comune le piazze di spaccio per non incappare in controlli delle forze dell'ordine. Un'organizzazione militare capillare che non ha evitato però a Carabinieri e Guardia di Finanza di mettere le manette a 19 componenti del clan, tra cui Francesco Ferrara, esponente di spicco dell'omonima famiglia, che in un'intercettazione al telefono parlando con un sodale si vanta della lussuosa vacanza in Sardegna da 80.000 euro. I reati contestati vanno dall'associazione mafiosa all'estorsione e al tentato omicidio allo spaccio. Le indagini della direzione distrettuale antimafia di Napoli hanno consentito di ricostruire il meccanismo di controllo delle attività commerciali di Villa Ricca, dalla ristorazione all'edilizia alle pompe di benzina fino ai posti al cimitero, un dominio quasi totale che lasciava le briciole alla concorrenza. A questo si aggiunge anche un'intensa attività estorsiva, danno di imprenditori onesti costretti a versare nelle casse delle famiglie dai 1.500 ai 5.000 euro al mese, somme che, secondo gli investigatori, servivano ad alimentare la cassa comune per garantire stipendi e spese legali degli affiliati finiti in carcere. Alle misure cautelari si è aggiunto il sequestro preventivo di 11 società, beni immobili e conti correnti per un valore complessivo di 16 milioni di euro.